Teresa Langella stuzzica i fan, appuntamento misterioso per l'ex tronista L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è tra i personaggi più seguiti e più amanti del talk show. Attraverso il suo profilo Instagram, la ragazza tiene costantemente aggiornati i suoi fan circa i suoi spostamenti e le sue avventure. Ad ogni modo, in questi giorni, la bella napoletana aveva generato un po' di preoccupazione in tutte quelle persone che la seguono con tanto affetto e ammirazione. La settimana, infatti, non è affatto cominciata nel migliore dei modi per lei dal momento che si è beccata una bel raffreddore. La Langella faceva fatica a parlare dal momento che non aveva voce e aveva un mal di gola terribile. In ogni caso, dopo un inizio un bel po' fiacco, Teresa si è ripresa perfettamente ed ha voluto stuzzicare un po' i suoi fan dicendo di essere diretta un appuntamento misterioso. Di cosa si tratterà?. L'appuntamento misterioso di Teresa. Teresa Langella è molto attiva su Instagram. Proprio di recente, la ragazza ha pubblicato delle Yig Stories nelle quali ha voluto ringraziare tutti i numerosi fan per l'affetto costantemente dimostrato. . Questa mattina, però, Teresa ha voluto solleticare un po' la curiosità dei follower dicendo di essere diretta un appuntamento misteriosa. . La ragazza è apparsa in auto, in perfetta forma. Lei stessa, infatti, ci ha tenuto a ringraziare tutti per i messaggi d'interessamento mandati in questi giorni e, inoltre, ha voluto rassicurare i fan dicendo di essersi ripresa. . Al momento, infatti, la voce le è quasi ritornata completamente e gli acciacchi di inizio settimana sembrano solo un lontano ricordo. . Importanti news nel mondo della musica. . In questi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva informato tutta la community che la segue del fatto che avrebbe avuto degli appuntamenti molto importanti, specie per quanto riguarda il lavoro. . Come tutti sapranno, infatti, oltre che dedicarsi alle collaborazioni di Instagram, la Langella è anche autrice e cantante di canzoni. . Dopo l'enorme successo del suo singolo, la ragazza è assolutamente spronata a continuare su questa strada. . Proprio per questo motivo, nel momento in cui Teresa ha annunciato di essere diretta a un appuntamento misterioso, la maggior parte dei fan ha pensato subito a qualcosa riferito al mondo della musica. Ha davvero così? Non ci resta altro che attendere gli ulteriori aggiornamenti in merito. . Nel frattempo, anche la storia con Andrea Dal Corso sta procedendo a gonfie vele. . I fan, inoltre, sono anche in attesa della terribile vendetta che la ragazza ha in serbo per il suo fidanzato. . . .